Una scuola di alta formazione per i professionisti delle società partecipate pubbliche sul modello francese, la CDP Academy, il primo progetto certificato nato dalla collaborazione della Cassa Depositi e Prestiti e Università Lewis di Roma. Sentiamo Giampiero Scarpati. Globalizzazione, digitalizzazione è l'esigenza sempre più forte della sostenibilità ambientale. Le sfide che riguardano il mondo delle imprese sono sempre più complesse, per questo richiedono una classe dirigente sempre più preparata e al passo con i tempi. Parola d'ordine competenze va in questa direzione, la CDP Academy, il primo progetto certificato di alta formazione per i professionisti sia per le società pubbliche che per quelle private. Il nostro obiettivo è investire molto sulle persone e sulla loro formazione, perché crediamo che sia un abilitante importante dello sviluppo. Per fare questo, un'istituzione come la nostra, che è fatta di tecnici al servizio del Paese, vuole sostanzialmente investire su tutte le eccellenze che ha già all'interno del gruppo. Il progetto nasce dalla collaborazione di due eccellenze, una pubblica e l'altra privata, Cassa Depositi e Prestiti e Università Lewis di Roma. Il progetto che la Lewis Business School e l'Academy di Cassa Depositi e Prestiti vogliono fare è proprio questo, quello di formare dei leader in grado di affrontare queste sfide della società per portare il nostro Paese a una nuova fase di crescita e sviluppo. Il modello è quello della mitica ENA francese, la scuola nazionale della pubblica amministrazione, che ha dato alla Francia Presidente i uomini di governo di valore. Il tentativo quindi è quello di creare un vivaio di dirigenti, in grado di guidare le nostre aziende sui mercati internazionali.